Antonio Sofiro, Sia La Romana, Mogliolone. Anticipiamo l'approfondimento tra pochi minuti sul redditometro, perché diciamo spesso che le pubbliche amministrazioni non sono poi così digitali, invece l'Agenzia delle Entrate, abbiamo scovato sul loro profilo di YouTube, ha pubblicato un video fatto in casa in cui spiega come funziona il redditest. Vediamolo, senza spendere una lira, erano fatto. Tutti i dati restano sul vostro computer. Vabbè, insomma, un buon tentativo, magari da raffinare un po' nella tecnica televisiva. E invece, prima di passare all'approfondimento, un Todocambia spettacolare con Rossella Romana. Todocambia? Un anno fa si è appena insediato con il Presidente Monti e c'è molta curiosità, vi ricordate intorno a questa figura del professore bocconiano, tecnico, anche un po' alieno, ma in realtà colpisce per la sua sobrietà e soprattutto per la sua disinvoltura negli ambienti europei. Vediamo. Sono Mario Monti. Eccolo. Questo non è l'esecutivo dei poteri forti. Questa è una persona normale, mi è venuto vicino, io ho detto a curi professore e mi ha dato la mano. Mario? Mario? Credo che potremmo andare più decisamente a fondo, a fondo in senso buono, fino in fondo, scusate. Monti, quando cammina, passa davanti a un bancomat, i soldi escono da su, e ciò, così. Noi intendiamo fare il nostro compito a casa. Ora, il fatto che noi dobbiamo fare i compiti a casa, adesso abbiamo un Presidente del Consiglio che sa quel che bisogna fare. Questa è l'ennesima vittoria rubata. Noi staccheremo la spina. Ho detto una frase di questo genere, soprattutto riferita al nostro sostegno a questo governo. Il ciao più grande, ma grande, va Berlusconi, ma piove, piove, minchia come piove, governo. La 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 la. E insomma, racconteremo le prossime settimane nel governo proprio di Cavallo. Ci manca Fiorello, mannaggia. Ma lui c'è in tellina la tv, giustamente, ogni volta che arriva però fa bong, bong, big bang. Va bene, grazie. Lo stella romano Antonio Sofi.